Pregate, parlate con il Signore, vivete della sostanza del Vangelo, perché Gesù sente il battere del cuore di ognuno di noi. Durante l'omelia della Messa celebrata a Santa Marta, Papa Francesco si è soffermato oggi sull'importanza della preghiera di contemplazione, vale a dire leggere un passo delle Sacre Scritture e immaginare quello che succede, tenendo fisso lo sguardo sul Figlio di Dio. Gesù dunque è la stella polare della nostra speranza e ci aiuta a orientarci tra le difficoltà della vita. E con questo noi facciamo crescere la speranza, perché abbiamo fisso, teniamo fisso lo sguardo su Gesù. Fate questa preghiera di contemplazione. Ma ho tanto da fare, ma a casa tua, 15 minuti. Prendi il Vangelo, un brano piccolo, immagini cosa è successo e parla con Gesù di quello. Così il tuo sguardo sarà fisso su Gesù e non tanto sulla telenovela, per esempio. Il tuo dito sarà fisso sulle parole di Gesù e non tanto sulle chiacchiere del vicino, della vicina. Grazie. 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 Grazie.